A cosa servono le ricorrenze, gli anniversari, le date dedicate? A poco si dirà, eppure, un merito ce l'hanno, quello di portare all'attenzione di tutti, almeno una volta l'anno, ciò che non si vede o magari non si vuole vedere. Ecco perché questo 11 ottobre, giornata mondiale delle bambine e delle ragazze, diventa importante. Serve a sensibilizzare istituzioni e opinione pubblica sulle gravi quotidiane e planetarie violazioni dei diritti delle bambine e delle ragazze. In tutto il mondo. I dati ci sono, regione per regione, grazie alla campagna e al dossier in difesa, curato ogni anno dall'associazione Terre des Hommes. La situazione relativa ai minori vittimi di reati è fotografata regione per regione. Il focus sull'Abruzzo, pur evidenziando nel 2021 un meno 9% complessivo rispetto al 2020, torna stabile se si prendono in considerazione i reati che riguardano le vittime di sesso femminile, che erano e restano il 59% del totale. Tra i reati più odiosi figura la violenza sessuale, passata dalle 6 vittime del 2020, 100% femmine, alle 14 della 2021, 71% femmine. Abbiamo portato la tabella all'attenzione della questura di Pescara Luigi Liguori, che ha letto anche un altro dato significativo, l'ascesa degli atti sessuali con i minorenni, passati dai 4 del 2020 ai 7 del 2021, e anche i casi di violenza assistita, ossia l'aggressione da parte di uno dei due genitori, solitamente il padre verso la madre, avviene tra le mura domestiche, davanti agli occhi dei minori. Tanti casi che prima non emergevano, soprattutto per quanto riguarda la violenza indiretta subita dai minori, nei casi di maltrattamenti in famiglia, per esempio tra la coppia di genitori, e quindi la violenza di cui loro sono vittime, perché assistono appunto a questi atti di maltrattamenti, sono emersi in maniera maggiore rispetto a prima, perché c'è un'attenzione maggiore, c'è dei tempi di reazione assolutamente abbattuti, dopo l'introduzione del codice rosso. La pedopornografia è un mondo assolutamente sommerso, a differenza magari del maltrattamento in famiglia tra i genitori, è il minore che è vittima perché è presente, perché è assistito, se non addirittura quando è vittima lui stesso di maltrattamenti. Molto di quello che prima era sommerso sta venendo fuori. I dati che emergono in crescita si possono spiegare anche come dati di scoperte, piuttosto che di aumenti dei reati. La consapevolezza di una minorenne odierna non è quella di una minorenne di 30 anni fa. Sicuramente quando ci troviamo a che fare, ad operare con bambini molto piccoli, sia bambini che bambine, è chiaro che l'approccio diventa fondamentale da parte nostra, anche in base alla tipologia di reato. Noi siamo una sezione specializzata nel trattare queste tipologie di reato, siamo uomini e donne. Chiaramente in base alle situazioni, alla disponibilità, in molti casi si preferisce che agisca il personale femminile. Per obbligo di legge siamo affiancati dalla figura dello psicologo, proprio per mettere maggiormente al loro agio le piccole vittime, che spesso non si rendono conto di essere state vittime o comunque hanno remore, hanno timore. Il bambino cerca sempre di difendere il proprio carnefice. Lui è contestualizzato in questo ambiente, che è l'unico che conosce, lo dà quasi per normale. E comunque va a proteggere la figura genitoriale, che anche se si dimostra essere un orco, non viene recepita come tale. Quando invece ci troviamo di fronte ad esempio a delle violenze sessuali, che colpiscono maggiormente le donne, statisticamente rispetto ai maschietti, anche qui si cerca di intervenire sempre in maniera molto attenta e molto delicata, perché spesso il problema è che le vittime di questo reato si sentono colpevoli. Quindi non percepiscono il fatto di essere appunto vittime, ma si addossano colpe inesistenti. Quindi anche qui c'è un po' di reticenza, c'è molta vergogna per questo motivo, perché loro magari pensano di aver avuto degli atteggiamenti sbagliati che hanno portato all'abuso.